Allora siamo al termine dell'ultima prova del trofeo a sede B regionale di Romagna 2017 e il team Travalcore si conferma assoluto marcatore di giornata piazzando le due squadre A e B rispettivamente prima e seconda. Qui con me Simone Venturi che ha vinto anche la classifica individuale. Non c'è un premio però la soddisfazione di vincere grande Simone. Vogliamo ricordare i tuoi compagni delle due squadre? Sì, allora Alessio Sarani, Govoni Andrea, Garuti che oggi non poteva, è stato sostituito da Andrea Govoni, poi io Venturi Simone e Mariani. Molto bene. Uno stellato o rinato? Sì, oggi devo dire che ci siamo investiti. Come l'avevate impostata? Noi, allora diciamo che noi abbiamo fatto una gara, essendo già primi, dovevamo fare meno punti possibile, noi l'abbiamo impostata a 13 metri e prendendo un po' tutto quello che c'era da prendere. Un bel fondo iniziale con soliti caster, un po' di biglietti morti e poi 5-6 palline di qui in terra e poi dopo iniziare così, poi vedere quello che succedeva, poi alimentare ogni 10 minuti o 8 ore. Avete scarifato a priori la pesca a 6 pezzi per i placchetti? No, la pesca a 6 pezzi ci siamo accorti che c'era, però infatti anche io stesso nel mio picchetto l'ho preso, però io oggi avevo un picchetto che devo dire aveva dei pesci enormi e quindi di placchette io ne avevo poco. infatti ho preso un bel carasso grosso, altri 3 o 4 grem, un bel grosso e io ho fatto a 13, però dalla giornata di ieri ci siamo accorti che a 13 anche le placchette erano di pelo più bellissime, allora abbiamo comprato, insomma, a fare così. Dopo la vittoria dello scorso anno al Foto Finish quest'anno è un campionato tutto col lotto in testa. Devo dire che quest'anno ci è andata veramente bene. Tra i vittori in tappa, anche oggi come vi mette? Oggi abbiamo fatto 13 noi, abbiamo visto un'altra squadra, perché abbiamo alessio che purtroppo ha fatto 9, però lo fanno bene così. In bocca al lupo e quest'anno ci fate la 2? Sì, io personalmente non farò la 2 perché è per questione di tempo, con il lavoro e due bimbi piccoli non ce la faccio e faccio il risonato, però se gli altri vogliono fare la 2 è in bocca al lupo. Vi lo fate per tanti anni, basta. Complimenti per il tuo titolo individuale. Grazie mille. Grazie.